Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo vlog e oggi per la prima volta andremo nello stadio di San Siro Oggi andremo a vedere IPU che è un gruppo pop che è stato famoso negli anni 60 Comunque questa non è importante ma diamo il via che siamo già in ritardo e quindi dobbiamo scappare Ciao! Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti 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 Iscrivetevi al canale Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti